Comodo quando stai telefonando per cercare un alloggiamento Comodo quando stai telefonando per cercare un alloggiamento Siamo arrivati a Guanajuato È stato un po' difficile stavolta trovare un alloggiamento Perché è molto costoso rispetto all'Italia è super economico Ovviamente come al solito rispetto al resto del Messico E quindi la nostra spesa normale per l'alloggiamento è più costosa Tipo quasi il doppio Quindi abbiamo dormito la prima notte in un alloggiamento che abbiamo trovato in internet Perché abbiamo provato a chiamare ogni hotel Ma un po' sono pieni e un po' sono troppo costosi E stamattina abbiamo iniziato a fare il nostro girettino per cercarne altri Avevamo dimenticato l'action kamakasa quindi non ci sono video a riguardo Però l'abbiamo trovato Ma abbiamo notato che in questa città è pieno di locchitos Sono un po' matterelli Bellissimo, è meraviglioso Io poi che mi piace chiacchierare sono super a mio agio Però la signora che ci sta dando la camera dove dormiamo ci ha appena parlato per tipo mezz'ora Di tutta la sua vita Di tutta la sua vita Adesso sappiamo tutta la sua vita e la vita della sua casa Della sua casa, della sua famiglia, sua figlia, nipoti Famiglia, di tutto In più prima ci eravamo sentiti per messaggio con un'altra persona che doveva ospitarci in casa sua Aveva una stanza libera Adesso gli abbiamo detto che per una questione anche economica e questo dove siamo adesso è più a buon mercato E anche perché lui non c'è fino a domani e voleva che stavamo per strada fino a stanotte o domani mattina E dopo che ci ha inviato 800 messaggi e 412 foto di casa sua Gli abbiamo detto, no vedi grazie per la gentilezza ma abbiamo già trovato un altro posto dove ospitarsi E adesso questo qua ci ha mandato un messaggio con scritto Anche se si sono ospitati da un'altra parte sarei contento di conoscervi per mostrarvi casa mia Per un futuro impressionante E' molto pieno della sua casa E in più perché dice che è stato in Italia tanti anni fa e vorrebbe ricordare quel viaggio stando un po' con noi Forse lo faremo, adesso vediamo perché a me chiacchierare piace la città Ma diciamo che per la nostra mentalità quando arrivi e ti astilla in questa maniera Non si possono spendere le giornate solo a parlare con la gente C'è anche una città da vedere, tra l'altro sembra molto carina Tipo adesso ormai è un mezzo giorno Avrei anche il piacere di fare una mezza giornata in giro per la città Se le persone me lo concedono, adesso vedremo Però strabello Sembra di no, però vediamo di ritagliarci un po' di tempo Però bello, tutti i bei chiacchieroni come piace a me Amiga de la città Amica del sombrero, vengono chiamate le persone, tu con il cappello vieni, vieni. Siamo tornati a mangiare nel nostro posto di fiducia perché a noi tutte le volte se ci troviamo un posto che ci piace andiamo sempre lì, non ne proviamo altri. Sì, almeno che ci sia qualcosa, è diverso che colpisce, però qua tutti si privarono, ieri abbiamo mangiato bene, speso poco, quindi... Poi è bello avere le proprie abitudini, a me piace, a me piace. E quindi siamo di nuovo qua, stavolta assaggiamo un piatto tipico che non abbiamo ne ancora assaggiato, che è il menudo, che è una zuppa rossa di stomaco di vacca. Adesso vediamo qui. Con l'aggiunta di mais, vediamo. Grazie. Quindi come ci ha consigliato mettiamo un po' di origano, un po' di cipolla immaginabile nella comida messigliana, un po' di coriandolo, qui un epato piotto, anche perché mi ricorda l'Asia, l'India, dove viene messo praticamente anche le gioppe. E poi fa sgrassare leggermente, come un piatto leggermente grasso. Appena fuori. Appena aspettata di nani. Abbiamo le nostre tortiglia da mangiarci insieme. E già. E' un pezzo. No. Udoria. Ora che l'abbiamo assaggiato così, facciamo come fanno loro qua, i messicani, ci hanno spiegato che si mangia proprio dentro nella torpiglia, come tutto qua in Messico. Un rito e chesadilla del pastor, carne di maiale. Il maiale è regna sovrano nella cucina messicana. E una novità di questi posti, a dire la verità in tutta l'America Latina si usa, ma in Messico molto, l'ananas insieme alla carne. Sembra una cavolata. Ma è di un buono, ma è di un buono. Il pastore, carne di maiale, che praticamente viene cotta e affettata come un kebab, nella stessa maniera. spesso sopra all'ananas, probabilmente rilascia qualche succo nella carne. Qua invece ci sono proprio dentro i pezzettini di ananas in mezzo al pastore. È stra buono! A rendere più difficile la ricerca di un alloggiamento qua a Guanajuato sul posto è stata la conformazione di Guanajuato. è tutto un sali e scendi dalle colline a sottoterra. Allora ci sono anche diverse strade sotterranee. tra le altre specialità, che sono i pezzettini di Monaca, che sono i pezzi di Monaca. agenti che o leggono le carte o ti purificano lo spirito e è sempre particolare vederlo perché è molto lontano dalla nostra cultura. Ci siamo fermati a mangiare in un posto molto carino in cui il proprietario non fa neanche mezzo sorriso. È incazzatissimo, però è veramente buono. E ci ha offerto addirittura una caramellina, mamma, è tantissimo che non mi succedeva. Quindi il cuore dolce semplicemente non lo esprime probabilmente. Questa è la nostra sistemazione qua a Guanajuato. Ne siamo molto contenti c'è da dire perché la signora è davvero una personcina d'oro. Abbiamo tre letti matrimoniali, nonostante siamo in due. Esatto, quindi perfetto. Ce lo si è fatti su noi il letto perché lei ci ha dato solo le coperte apposto così. Abbiamo la cucina, no, ci sta davvero benissimo. La cosa migliore però di questa sistemazione è il fatto che è silenziosa. Mi è venuto in mente cos'è, ho letto qualcosa a proposito di queste storie. Praticamente si fanno dei giri per le viette della città con i mariaci, con l'orchestra che ti accompagna e ci si diverte, si canta, si balla, si beve qualcosa. Mi è venuto in mente quando adesso ho sentito i mariaci che ha detto e ora la prossima tappa è il Calillon del Beso. Cioè vanno in un altro luogo molto tipico del centro di Guanajuato e poi vanno là a cantare qualche canzone e sarà un tour che magari dura un paio di ore di sera. Deve essere una roba molto carina. Alla prossima! Alla prossima! Las mumias! Musica ecco stiamo per entrare al museo delle mummie è un museo molto diverso da quello che ci immaginiamo nel momento in cui si dice museo delle mummie esatto soprattutto perché non si tratta di mummie ma si tratta di cadaveri semplicemente tenuti molto bene grazie a condizioni atmosferiche favorevoli esposti gli ultimi due corpi esposti sono due bambini morti nel 1984 e siccome i loro genitori non erano riusciti a pagare questa tassa al corrispondente di 20 dollari americani per 5 anni i bambini sono stati disotterrati e portati in questo museo ed esposti al pubblico non siamo diventati sadici però questo museo è molto famoso, molto frequentato vediamo tantissime famiglie che portano i propri bambini qua a vedere questo museo delle mummie quindi siamo curiosi di vedere qual è il clima come interpretato se possa centrare con l'interpretazione messicana della morte che è diversa dalla nostra adesso vediamo vediamo com'è sono cadaveri esposti perché praticamente nelle cripte della città di Guanajuato è stato scoperto questa cosa particolare è che i cadaveri grazie a condizioni eteologiche favorevoli si mantenevano davvero bene si mummificavano e rimanevano intatte in maniera eccezionale praticamente si sono accorti per la prima volta di questa cosa quando il cimitero è iniziato a riempirsi e quindi hanno iniziato a chiedere delle tasse per mantenere i corpi seppelliti hanno desappellito come si dice hanno tirato fuori dalla propria tomba tra i primi una persona francese non avendo poi parenti nessuno ha pagato la tassa e si sono accorti che era mantenuto molto bene nonostante fossero passati dagli anni dalla sua morte e così con le mummie con le persone desappellite poco dopo hanno iniziato a capire che era proprio un vero e proprio fenomeno che succede in questa città quindi tutt'oggi questa tassa esiste vengono chiesti viene chiesto di pagare questa tassa per mantenere i corpi nel cimitero chi non la paga vengono desappelliti e portati in questo museo esposti a pagamento tutt'ora ci sono delle nuove entrate nella collezione di cadaveri del museo sinceramente sentimento molto contrastante perché qua viene proprio visitato come grande attrazione turistica della città c'è pieno di famiglie con i propri bambini che vengono a visitare questo posto sinceramente adesso che l'abbiamo visto non so se porterai mio figlio perché è davvero macabro davvero ci sono anche i bambini, feti, persone uccise malamente, nel senso è proprio molto di impatto cadaveri tenuti piuttosto bene quindi che fanno un certo senso perché è un conto a vedere uno scheletro con tanto di capelli che si mantengono nel tempo è piuttosto forte per chi è piuttosto impressionabile però c'è la sua poesia sotto perché praticamente nell'entrare sopra le porte ci sono varie domande tipo entri e c'è proprio scritto solamente se sei ancora vivo entrando pian pianino ci sono altre domande tipo stai seguendo la passione che ti mantiene vivo? stai attento a vivere davvero? nel senso ci sono diverse domande che vogliono farti riflettere nel senso è bello che ci sia questa concezione seguire queste domande piuttosto che i cadaveri in sé che fa pensare però perché è messo in una maniera che ti vuole portare a una piccola riflessione per quanto magari loro dal loro punto di vista lo fanno semplicemente per guadagnare soldi e non sto mettendo in dubbio questo però nel senso ti porta anche un pochettino alla riflessione soprattutto sul fatto che siamo in una società che vede la morte in una maniera molto diversa dalla nostra che celebra la morte che considerano nella propria vita la morte e infatti tra una delle frasi c'era nel momento in cui smetterete di considerare la morte come parte della vita smetterete anche di vivere perché è importante considerare che si finisce tutti così e quindi, non so, sono combattuta è d'impatto, è forte ti prende anche un pochino male sapere che vengono messi qua i cadaveri di chi non può pagare le tasse se mi auguro che le famiglie non siano contrarie a questa cosa non saprei da un altro punto di vista ti fa riflettere su un aspetto vero e proprio della vita che è la morte è inutile chiudere gli occhi e far finta che non esista, esiste non lo so, è molto strano è particolare non lo vedi per curiosità ti domandi come mai tutta la gente venga a vedere se è una delle attrazioni principali anche i tour che ti offrono in centro il museo delle mummie è una tappa fissa è una delle cose probabilmente più visitate di Guanajuato ci sono anche un paio di Guinness anche i vari cartelli di spiegazione sono fatti in prima persona come ciao sono stato seppellito in tale data sì è vero ho girato tutto il mondo perché sono una mummia meglio mantenuta esistente al mondo sennò c'era la mummia più piccola esistente al mondo perché si tratta di un bambino durante la gravidanza tra i 5 e i 6 mesi e quindi sì, molto di impatto adesso andiamo a vedere il resto della città riportiamo un pochettino l'umore alle stelle diciamo che il centro della città è quello che vedi è molto più piacevole del museo il nostro canale è molto più piacevole del museo sono stati intrattenuti da due splendide bimbe messicane che hanno riassunto perfettamente l'atteggiamento di tutti i messicani che stiamo incontrando in questi mesi cioè ciao tu parli inglese? sì io parlo inglese e tu? no io no noi che eravamo abituati a viaggiare pressoché sempre in Asia sempre in Asia questa America Latina dopo un anno ci fa davvero capire perché si dice che i latini sono molto più calorosi c'è gente che limona in giro con gli impazzini scatenati ma anche gente di 50 anni c'è allora lì si 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 è chiuso i limoni hanno un senso a nessun ritigno in Asia avevamo sempre soggezione fino a mai a darsi la mano perché troppe effusioni qua non ci sono problemi riesumare si dice mi è venuto in mente adesso sarà passata mezz'ora 40 minuti grazie grazie